la facciamo serie 100, destra a 2, chiude 2, chiude tornante sinistro 50 sinistra a 4, lunga c'è un altro sinistra a 4 subito destra a 5 50 il tornante destro 30, sinistra a 2 destra a 3, lunga 80, tornante sinistro lungo, lungo, chiude destra a 3, lunga subito sinistra a 4 destra a 4, lunga c'è la rotopalla, non tagliare 30, accenno sinistro destra a 4, rotopalla 100, tornante destro tornante sinistro 50, stai a destra su, dosso 100, vista dosso, c'è un destra a 5 80, attenzione c'è un sinistra a 3 destra a 3, c'è la rotopalla 50, stringe 50, stringe tra casi cosetti in fondo c'è un destra a 2 con una rotopalla sinistra a 3 100, tornante destro tornante sinistro 100, destra a 4 con una rotopalla non tagliare con una rotopalla sinistra a 2 sporca taglia buttati dentro vai destra a 5 180 di allungo sinistra a 3 3 buttati destra a 4 lungo, lungo sconnessa in attenzione sinistra a 2 stai a sinistra chiude stai a sinistra chiude destra a 2 lungo non tagliare la rotopalla sinistra a 2 lungo taglia inversione destra sinistra a 2 destra a 2 100 sinistra a 3 lunga sinistra a 4 sinistra a 3 sinistra a 3 sporca taglia buttati dentro destra a 2 ponticello sinistra a 4 sporca lungo sporca sale sinistra a 2 sinistra a 4 100 vista sinistra a 3 per destra c'è l'inversione sinistra 100 destra a 4 lunga lunga chiude la legna alla legna chiude e poi ancora lunga lunga vai lunga 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 scosce in sinistra a 2 2 subito tornante a destra destra a 4 tornante a sinistra 50 griglia al giallo destra a 3 50 accenno destro 50 tornante destra sta in largo tombino sinistra a 4 4 20 sinistra a 2 sale 2 sale un altro 20 un altro sinistra a 2 subito destra a 3 sporca sporca 100 sinistra a 3 lunga 3 lunga destra a 4 50 sinistra a 4 lunga lunga 20 destra a 3 esci largo 100 da lungo sinistra lunga 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 vai vai al ciabot destra a 3 dosso 100 da lungo sinistra con pressione 50 dosso in sinistra 100 sinistra a 3 3 lì sta in sinistra 150 da lungo accenno 2 dosso in destra a 5 dosso in destra a 5 sporca taglia butta di dentro vai sinistra a 4 6 stretto destra a 4 accenno sinistra accenno destra sporca taglia accenno destra sporca taglia 50 sinistra a 4 6 stretto 150 sinistra a 4 siamo di modo ok sinistra a 4 100 106 alla casa stai sinistra su dosso destra a 3 occhio 150 griglia occhio sinistra a 4 lungo sporca destra a 2 detta destra a 2 detta 50 destra a 2 destra a 2 30 30 sinistra a 5 lungo lungo chiude al rosso chiude al rosso rosso destra a 2 2 sporca sinistra a 3 lunga chiude lunga chiude destra a 2 2 150 si sale sinistra a 3 taglia 3 taglia sinistra a 3 50 tornante sinistro tornante sinistro ci passi ok 50 destra a 3 subito tornante destro sinistra a 3 lunga e inversione dai largo e lungo sinistra a 2 destra a 2 sinistra a 2 sporca al rosso sinistra a 2 nel cazzo non ci sono si si chiude ok sinistra a 2 lì sporca c'è un altro questo è quello che chiude ok si vai sinistra a 2 sporca un altro sinistra a 2 viscida sinistra a 2 viscida sinistra a 2 viscida destra a 5 50 destra a 4 chiude destra a 4 chiude 3 subito sinistra a 3 200 sinistra a 3 50 chicane ingresso sinistra inversione inversione destra a 4 rotopalla destra a sinistra destra a 5 100 tornante sinistra alla nostra tornante sinistra 50 tornante destra 100 destra a 3 sporca sporca taglia entra dentro vai 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 sinistra a 4 lunga 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 quella che non finisce più fino al muoretto che c'è un testa a 4 chiude testa a 4 chiude 150 sinistra a 4 destra a 4 eh ma c'è la gialla vai vai piano destra a 3 sporca sinistra a 4 chiude il giallo 150 viscido rallenta un attimino qui c'è una macchina di traverso destra a 2 ma ci passi si ci passi ci passi sinistra a 2 destra a 4 al palo sinistra a 4 subito destra a 2 in sinistra a 2 lunga lunga destra a 2 su Conticello sinistra a 4 50 destra a 2 su Conticello sporca ed è finita vai ancora fino alla rosso alle case ed è finita anche questa ched tiefso ched di 2 attat e usi coule